vai 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 bellissima dai è la 2 è la 2 anche mi aldo parti con un single che va nel bosco poi che guardiamo ma no che guardiamo la fame dopo pensiamo dai 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 o che paraboliche oh è questo non vedo un cazzo è questo che va nel bosco questa o mia questa se andrei a farla quando arrivo da sotto li maltaxi se mi sbagliate vai ma che questo è bello bello soffice ok 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 passato dai teofilo mi tiene il giaino se ti ricordi non fermarti di colpo vai derapata derapata rilassati eh ma hai sbagliato? no! si, hai chiesto dal pont il pont è pieno per i scalini però a caso allora no, ma è questa sono in pienina scarpa bellissima, no mi sono imbagliato il culo no milla scarpa, è piena d'acqua bellissimo, bellissimo e cos'è il 3 questo? fantastico ecco, ecco i ponti con il conno quel che rincia la foto al sommo è fanca prendi la foto è il poste mobile prendi la foto si ok è la foto